Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Monica Guerzoni, giornalista politica del Corriere della Sera, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e siamo in attesa della rigo del ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia e abbiamo ovviamente molte domande per lui, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Allora ministro Tajani, benvenuto intanto, vorrei ricordare che il ministro è candidato per le europee in 4 circoscrizioni su 5, le vorrei chiedere ma perché si candida per un posto nel quale non andrà? Per due motivi, innanzitutto perché essendo l'unico politico italiano che ha esperienza Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo vorrei porre sul tavolo del dibattito politico i temi europei perché se ne parla veramente poco, parliamo di tutto, se uno deve scrivere Giorgio, Antonio, Elli o qualcun altro ma non parliamo delle questioni europee, vogliamo parlare di difesa europea, vogliamo parlare di riforme europee, come funziona il Parlamento Europeo, cosa bisogna fare per la politica ambientale, cioè tutte questioni europee. Secondo motivo perché è la prima volta che il partito che ho l'onore e l'onere di guidare si candida a questa elezione senza Berlusconi e credo che sia dovere mio guidare la squadra di Forza Italia perché se non do l'esempio poi come faccio a chiedere a tutti gli altri di dare il massimo impegno. Il suo nome, lei come capolista, quanto vale in termini elettorali? Per esempio si dice che la Meloni valga fino al 2%. Lo vediamo il giorno dopo l'elezione, non lo so, ma in genere dice che i sondaggi dicono che la presenza dei segretari di partito porta più gente a votare perché c'è un dibattito più forte, un dibattito con personaggi più conosciuti. Ecco, lo ricordava lei prima, le prime elezioni in tutta Italia senza Berlusconi e Berlusconi c'è però nel simbolo di Forza Italia e anche nei cartelloni elettorali c'è la foto. Non è un po' macabro? Assolutamente no. Noi perché dobbiamo rinnegare le nostre radici? Io non voglio fare né un partito museo né un partito nostalgico, ma non voglio rinunciare neanche alle nostre radici. Berlusconi è un po' come le radici di una quercia, è la linfa vitale, le sue idee, il suo pensiero, quello che lui ha fatto, ma noi siamo una forza politica che oggi è frutto di una scelta di impegno di 110.000 iscritti che hanno eletto tutta la loro classe dirigente, che hanno fatto un congresso nazionale, hanno fatto tutti i congressi provinciali, adesso faranno i congressi comunali, quindi è una forza che sta allargando, abbiamo raccolto accanto a noi tutte le liste civiche di tanti sindaci, da Brugnaro al sindaco di Fiumicino, al sindaco di Imperia, al sindaco di Palermo, abbiamo fatto l'accordo con la Sud Tirole Volkspartei, abbiamo fatto l'accordo con noi moderati, cioè tutta quell'area che sta tra Elie Schlein e Giorgia Meloni. Va a stare, mi verrebbe da dire. Marco Travaglio, molti pensavano in effetti che Forza Italia senza Berlusconi avrebbe vissuto una fase di inesorabile declino, invece Tajani ha dimostrato in tutti questi mesi che invece è in rimonta Forza Italia anche rispetto alla Lega. Qui intanto io penso che se si candidano dei leader che poi non vanno in Europa la gente va meno a votare, non più a votare perché si sente presa in giro. Comunque, degustibus, ognuno deciderà il giorno delle elezioni, anzi nei due giorni delle elezioni. Le ragioni per cui Forza Italia non è morta con Berlusconi, perché con Berlusconi l'estremista nel centro-destra era Berlusconi, adesso invece gli estremisti sono Salvini e Lameloni e quindi Tajani si è ritagliato il ruolo che il nostro comune direttore, perché in un'altra vita Tajani è stato al giornale dove c'ero anch'io, Montanelli, chiamava i visi pallidi. Certo bene, è ricorrispondente da Torino. Esatto, esatto. E il direttore li chiamava i visi pallidi, cioè aveva in mente Forlani, uno che parla bene, sa stare a tavola, non dice quasi niente quando parla, però lo dice molto bene e rassicura. Tajani fa battaglie anche popolari, come quella per la difesa degli esudati del superbonus, poi le perde, però insomma fa vedere che esiste. In più gode di ottima stampa. Sulla Sugar Tax l'ho vinta però. Beh, bella battaglia. In ogni caso gode di ottima stampa, perché tutta la stampa che ha in odio Lameloni e Salvini lo elogia, in più ha fatto un accordo con forze che alle elezioni politiche del 2022 erano separate da Forza Italia, per cui c'è anche quell'illusione ottica di alcuni sondaggi che lo danno davanti alla Lega, perché non è più soltanto Forza Italia, ha anche noi moderati e altre forze di centro. E poi non fa gaff, sa tenersi sulla linea del galleggiamento senza dire degli spropositi. Ovviamente rispetto a una squadra di governo che passa le sue giornate a sparare cazzate, Tajani sembra quello ragionevole e quello rassicurante. Tutte queste ragioni insieme, secondo me, giustificano il fatto che Forza Italia si è ritagliato a un posto che è diverso dalla Forza Italia di Berlusconi, perché Forza Italia di Berlusconi era un partito, per il suo leader e per le cose che diceva Berlusconi, molto estremista. Invece è diventato un partito, una boa galleggiante che c'è e che rassicura quell'elettorato moderato che non vuole spropositi. Allora, le do subito diritto di replica, ma voglio prima insedire Monica Guercioni. Rassicura Forza Italia di Tajani e il vero avversario alle elezioni europee è Giorgia Meloni o Salvini? Bella domanda, ma lo vedevo molto contento di queste cose che diceva Travaglio. La boa galleggiante è proprio quello che Tajani vuole essere, visto il governo appunto scosso da tensioni, destrorse. Ma più Salvini o più Meloni, entrambi, lo vedo stretto un po' tra due fuochi, anzi tre, perché c'è Salvini che oggi i Tajani tra le righe ha chiamato Capitano Fracassa, in qualche modo, no, non era diretto a lui, sembrava proprio diretto a lui. No, ho detto che in campagna elettorale, in questo momento, per attirare i cittadini... Chi dice meno Europa è un po' un Capitano Fracassa. No, 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 era una sintesi un po' forzata in un titolo. Io ho detto, meno Europa è sbagliato perché serve più Europa. Ho detto, poi in campagna elettorale non servono Capitano Fracassa, ma ce ne stanno talmente tanti per la lista interminabile. L'altro che volevo citare era Salvini, era Vannacci, quindi lei non deve vedersela solo con Salvini, ma con Salvini e Vannacci da una parte e Meloni dall'altra, con la quale lei ha avuto tensioni e problemi anche negli ultimi giorni, appunto Superbonus, Sugar Tax, eccetera. La mia domanda è, ma lei non ha un po' paura di finire cannibalizzato da Fratelli d'Italia e da Meloni che si è candidata? Lei non voleva candidarsi, si è candidata perché l'ha fatto Giorgia Meloni, no? Io non ho paura di essere cannibalizzato perché i risultati veri, non quelli dei sondaggi, hanno dimostrato che nessuno ci può cannibalizzare. Vedi il voto prima in Molise, è vero, era appena morto Berlusconi, potrebbe essere un voto di rimbalzo. Vedi il voto in Abruzzo, vedi il voto in Basilicata, tutti ci danno attorno tra il 13 e il 14%, è vero, parliamo il Sud. Io ho detto raggiungiamo il 10%, raggiungere il 10% significa avere una forza che sta stabilmente al centro, parte del centro-destra, ma che ha una visione della politica diversa. Siamo leali, ma non siamo la stessa cosa. Però il sorpasso con Salvini sembra... Ma a me non mi interessa tanto il sorpasso, a me interessa raccogliere consensi e dare una prospettiva a quell'elettorato che sta tra la Meloni e Schlein. Io non voglio andare a prendere l'elettorato di Fratelli d'Italia, né quello della Lega. Se avessi condiviso le parole di Vannaccio... E di chi vuole prendere l'elettorato allora? Ma oggi c'è l'area del non voto, c'è tutto uno spazio di elettori, tra la Schlein che si è spostata molto più a sinistra e Giorgia Meloni, c'è uno spazio enorme. Ci sono tanti che non vanno a votare perché magari aspettano una forza seria, credibile, affidabile, responsabile, chiave dei contenuti. Che sarebbe forza Italia che lei guida, ma lei è una boa galleggiante. È vero che lei non fa gaff rispetto a qualche suo collega, diciamo che andrebbe consigliato magari meglio, ma insomma no. Io cerco di dare anche dei contenuti, non insulto nessuno, cerco di entrare nel merito delle vicende. No, 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 ma dicevo a proposito di gaffe, diciamo il pensiero va subito al ministro. Ma forse perché sono più grande di età e allora sono più attento, più prudente. Più grande di età, insomma, mi sembra abbastanza maturo. No, io sono più grande degli anni. Senta, vediamo invece a proposito di Salvini e a proposito della destra-destra con la quale lei governa, perché lei governa con Giorgia Melone e Salvini in Italia. Ora, Giorgia Melone negli ultimi giorni l'abbiamo ritrovata di nuovo, vecchia maniera, molto anti-europeista, ha detto tra le altre cose l'Europa ha sbagliato tutte le priorità e ha detto che ha tolto la libertà ai popoli, è andata con un videomessaggio di nuovo alla Kermesse di Vox, c'è stato un riavvicinamento con Marine Le Pen, Marine Le Pen significa comunque Salvini, Zemmour, Orban, e però ripulita da alternative für Deutschland, cioè i neonazi tedeschi, perché in serata la leader del rassemblement si era detto mai più in Europa insieme. Ci hanno dato ragione, lo dicevamo da tempo che erano veramente una forza politica. E anche Salvini si è accodato. Ma è giusto, avevamo ragione noi. Quando noi dicevamo che erano una forza politica impresentabile, con la quale nessuno avrebbe mai fatto accordi, avevamo ragione. Ma invece gli altri sono tutti presentabili? Marine Le Pen, Zemmour? No, con Salvini siamo al governo assieme in Italia, non ho alcun problema. No, con Le Pen il problema è che non condivido le sue posizioni sulla Nato, non condivido le sue posizioni sull'Europa, quindi io non ho mai problema personale con chi che sia. Ma sono argomenti non proprio secondari, lei è reduce dal Consiglio della Difesa di due ore. No, sto dicendo, io non ho mai problemi personali, pongo dei problemi politici. La mia visione politica è quella del Partito Popolare Europeo, cioè credo nell'Europa che poi deve essere migliorata, devono essere fatte delle riforme. Io sono per esempio per il voto a maggioranza, perché sennò diventa un'Europa immobile, quindi non più voto all'unanimità. Credo che si debba fare una riforma del Parlamento. Ma con le penne in Europa sì o no, alleato? Assolutamente no. Assolutamente no. Io sono per una maggioranza, io spero che possa essere popolari, liberali, conservatori. La maggioranza... Conservatori della Meloni. Sì, la Meloni è il segretario. E lì sono tutti presentabili. È leader del Partito Conservatore. Sono tutti presentabili. Io parlo del Partito a livello europeo, non do i giudizi. Sì, sì, no, no, no. Il Partito Conservatore, poi ci possono essere quelli che valgono di più, quelli che valgono di meno, ma la maggioranza possibile, alternativa a quella dei socialisti e dei verdi è questa, popolari, liberali e conservatori. Anche oggi, per esempio, i conservatori tedeschi... Ma lei ha governato per cinque anni in Europa con i popolari, i socialisti... Io ho vinto, quando mi sono candidato a Presidente del Parlamento europeo, ho vinto contro i socialisti, con una maggioranza, popolari, liberali e conservatori. Sì, ma voglio dire, come in Europa lei c'è stato tantissimi anni... Mi ha coltito una sua frase oggi, una sua dichiarazione. In qualche modo è sembrato dire a Giorgia Meloni, guarda che tu non hai i numeri per fare quell'alleanza di destra che vuoi fare, perché lei gli ha detto, in Italia, chi conta tantissimo in Italia, e quindi per esempio Fratelli d'Italia, conta poco in Europa perché lì contano le famiglie politiche. La verità. Appunto, ma è un modo per dire a Giorgia Meloni, non la puoi fare quell'alleanza di destra che è ancora da Vox, e ieri di nuovo parlando con Battino Cinque e lei... Vox fa parte dei conservatori europei. Guardiamo la geografia europea, perché se valutiamo... Scusi, devo solo interrompere un attimo, perché tutti questi... Però fatemi dire ora a me. No, ma le voglio ricordare che sono anti-europeisti, filo-putiniani, cioè abbiamo dentro di tutto di più in questa destra europea. I polacchi conservatori sono tutto tra l'altro che filo-putiniani. E appunto, avete un bel mishmash, avete un... Ma sono un'altra cosa, io sto parlando del Partito Popolare Europeo, siccome bisogna fare pure Fizzo e della famiglia socialista, e quindi non è che abbia posizioni tanto diverse dagli altri, poveraccio, vittima di un attentato, per carità, ma anche lì è un governo socialista. Quindi insomma ci sia giusta. No, ci sia giusta. Bisogna trovare delle maggioranze per governare, se no non si governerà mai. Io credo... E von der Leyen è ancora la sua candidata alla presidenza. Von der Leyen è la candidata del Partito Popolare Europeo, che siccome non c'è lo Spitz in candidata, è una proposta che il Partito Popolare Europeo fa al Consiglio, cioè ai capi di Stato e di Governo, che dovranno, in base ai risultati elettorali, quindi sempre un popolare dovrà essere, e dovranno proporre al Parlamento perché dia la fiducia al Presidente della Commissione. Poi ci saranno i commissari. Certo. Il candidato votato dal Congresso è stata la von der Leyen, toccherà poi al Consiglio Europeo, cioè ai capi di Stato e di Governo, dire va bene oppure no. Può indicare anche Tajani il Consiglio? Tajani è fuori gioco, non si ritorna... Come Presidente della Commissione? No, no, non ci penso per niente. Ic Manebimus Optime, come diceva Bertini. So benissimo in Italia a fare il Segretario di Forza Italia, Ministro degli Esteri, sono più che soddisfatto, anzi, ho anche troppo in carica di tornare... Sono stato 30 anni a Bruxelles, ho fatto il Vice Presidente della Commissione, il Presidente del Parlamento, ho fatto di tutto. Ho fatto tutte le... Marco Travaglio. Tornare per far contare l'Italia? Sì, al Consiglio, perché sono anche Vice Presidente del Partito Popolare. No, ma l'Italia conta già, dice Giorgia Meloni. Marco Travaglio. No, ho una curiosità tra le tante. Lei ha lavorato 30 anni in Europa, diciamo, conosce i diplomatici, ma gli Stati Uniti ci hanno appena riconsegnato un condannato per omicidio non perché lo trasformassimo in un eroe, ma perché lo portassimo in un nostro carcere a finire di scontare la pena, che essendo l'ergastolo è una pena a vita. Chico Forti. Immaginiamo... Chico Forti. Immaginiamo se questo Chico Forti fosse stato un americano venuto in Italia, spara un ragazzo su una spiaggia, viene condannato in Italia, poi viene dato all'estradizione, lo mandiamo in America e lo riceve Biden all'aeroporto. Noi cosa facciamo? Siamo contenti o protestiamo diplomaticamente? Perché ho letto che gli Stati Uniti, per darcelo oltre a recepire la condanna americana da parte della Corte Appello di Verona e oltre a fargli firmare una dichiarazione di colpevolezza, avevano chiesto discrezione. Le pare un comportamento discreto quello del Presidente del Consiglio che va ad accogliere all'aeroporto un omicida trattandolo come se fosse il Papa o un capo di Stato? Le pare una mossa diplomatica azzeccata? Lei l'avrebbe fatta? No, lei intanto non l'ha fatto da Ministro degli Esteri. Ma infatti è stato un incontro privato quello tra il Presidente del Consiglio. Ma dove si hanno diffuso le foto? All'inizio stavano anche sul sito di Palazzo Pigi. Non c'era certamente la stampa lì a ritrarre. C'era un fotografo e basta da quanto mi risulta. No, no, mi scusi. Adesso non faccio finta di non capire. No, 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 io capisco benissimo. No, 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 io capisco benissimo. Appunto. Ma allora, Giorgia Meloni si è sempre battuta perché lei credo che sia convinta anche dell'innocenza di Chico Forti e credo che lei si sia battuta per far scon... Ah, questo è interessante. Quindi dovete chiedere a lei... Verrà liberato in Italia... No, 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 bisogna capire... Ma questo cambia tutto. Come? Perché cambia tutto? Questo cambia tutto. No, no, ma dico come persona. E perché noi e gli americani abbiamo detto che veniva qui a scontare il resto della pena non che mettevamo in discussione la loro sentenza anche perché l'abbiamo fatta recepire dalla nostra magistratura. Attenzione. Quindi accusare gli americani di avere preso uno a caso per condannarlo da innocente non credo che sia una bella mossa. Chi lo ha mai detto? Allora, lei lo avrebbe fatto da... Se la Meloni è convinta dell'innocenza... Non posso finire. Uno può essere convinto dell'innocenza anche di una persona condannata. Non è nessuno che ha mai detto che lui deve stare fuori. Uno può essere convinto dell'innocenza però si rispetta la legge perché quando c'è una sentenza passata in giudicato quella è la sentenza passata in giudicato. Sì, ma la Meloni è il Lola Presidente del Consiglio. Però si parla di due non capisco. Come? Non è mai successo che un Presidente del Consiglio vada ad accogliere all'aeroporto un condannato per omicidio definitivo che deve non essere liberato o essere scagionato ma essere accompagnato in un carcere per finire l'ergastolo. Infatti è stato accompagnato in un carcere per finire l'ergastolo. Ma lo stesso motivo col quale noi ci siamo impegnati per riportare in Italia Alessia Piperno che stava nelle carceri dei Pazdaran nello stesso motivo per il quale noi ci preoccupiamo di far sì che tutti i cittadini italiani possano scontare i loro pene quando sono condannati nelle carceri italiane. Molti si chiedono se farete lo stesso con Ilaria Salis. Non sono la stessa cosa delle condanne nel nostro paese alleato principe. Cioè le condanne del regime dei Pazdaran sono un po' diverse dalle condanne degli Stati Uniti perché noi siamo alleati con gli Stati Uniti io credo che in passato quando c'è stata tutta la vicenda di Forti lei si sia impegnata come persona quindi non come Presidente del Consiglio e fosse convinta come molti italiani sono convinti dell'innocenza di Forti. Questo non significa che lui non sia stato condannato e che non debba scontare... Ma che segnale è per la pubblica opinione per gli italiani? Che segnale è? Che cosa gli è stato detto con questo accogliere un condannato a vero? Che è tornato un cittadino italiano che stava in carcere in America ed è ritornato in Italia. Però non sembrate pronti a farlo con Ilaria Salis che ha invece una questione giudiziaria molto più leggera. Questo è stato in carcere Ma non è né condannata è in carcere sono preventiva da più di un anno. Guardate che tutti quanti abbiamo fatto però... Ministro Tenele posso dire una cosa? Cambiamo tema appunto non mi pare che la questione... No, perché non esiste in un paese democratico serio al mondo che un Presidente o nel caso una Presidente del Consiglio vada a ricevere con tutti gli onori un condannato negli Stati Uniti d'America. La Baraldini fu accorta da un governo di sinistra con rullo di tamburi come no? Allora la Baraldini era una terrorista condannata non da un pregno ma non dal Presidente del Consiglio ma comunque il Ministro è stato messo in imbarazzo la parmesina è stata messa in imbarazzo e fece malissimo e alleanza nazionale sparò a palle incatenate contro quel Ministro e aveva ragione alleanza nazionale perché neanche un Ministro deve andare ad accogliere un condannato per reati di quella gravità però non c'era il Presidente del Consiglio qui è l'apoteosi dell'apoteosi della benedità avrete detto quello che pensate io dico quello che penso insieme in democrazia mi pare che i cittadini credo che si dormano però lei non l'avrebbe fatto e questo l'abbiamo portato perché come Ministro degli Esteri poteva andare benissimo anche lei e anche come Premier l'abbiamo capito il suo pensiero ma il Premier l'abbiamo credo che abbiamo capito il suo pensiero Ministro Tajani veniamo alla questione della giustizia perché lei sostiene l'urgenza della separazione delle carriere dei magistrati ci spiega in che modo questo renderebbe la giustizia più efficiente? Allora è importante riformare la giustizia nel nostro paese perché è qualche cosa che non funziona sia quella civile che quella penale la giustizia lumaca civile comporta un danno tra il 2 e il 3% del PIL questa è la giustizia civile la giustizia penale ci sono purtroppo se andiamo a vedere i dati molte delle persone che vengono inquisite e poi vengono assolte cioè si comincia un processo di confronto di una persona cioè la maggioranza delle persone accusate vengono assolte e questo è un problema Ma la separazione delle carriere come aiuterebbe la giustizia lumaca? Attenzione la riforma della giustizia non è soltanto la separazione delle carriere la separazione delle carriere serve a garantire un processo equo dove l'accusa e la difesa sono sullo stesso piano si esalta il ruolo del giudice terzo quindi un magistrato che deve decidere se il piatto della bilancia pesa più a favore di quello che dice l'accusa o pesa più a favore di quello che dice la difesa quindi non è contro la magistratura è soltanto un modo per rendere più equo il processo in modo che il cittadino possa sentirsi quando è accusato e quando è difeso con due forze due posizioni che sono sulla stessa posizione non quella dell'accusa più forte di quella della difesa poi sarà il giudice terzo a decidere quindi se il santo è il ruolo del giudice terzo Travaglio e poi i guerzoni c'è una contraddizione logica insanabile in quello che dice Tajani se i giudici danno in maggioranza nella maggior parte dei casi torto al pubblico ministero non c'è nessuna ragione al mondo per separare le carriere perché già oggi i giudici sono talmente terzi che danno nella maggioranza dei casi torto al pubblico ministero perché preoccupazione c'è ma qual è la preoccupazione della separazione delle carriere? mi spiegate qual è la preoccupazione io non vedo l'ora che le separiamo ma l'associazione dei nazionali magistrati ha una sua posizione perché diciamo così è una posizione di categoria ma domanda a voi che siete giornalisti non è che potete fare una riforma contro i magistrati la dovete fare con i magistrati ma chi è che non la vuole fare? posso finire? mi pare che no è andata a parlare con i magistrati noi abbiamo candidato Forza Italia capolista in Sicilia e in Sardegna ho rinunciato io a farlo per mettere Caterina Chinnici che è un magistrato di carriera la figlia di Chinnici quindi un segnale chiaro che Forza Italia combatte contro la malavita organizzata e che ha grande rispetto per i magistrati la Chinnici è un magistrato di carriera non è che è solo figlia di un magistrato è lei un magistrato prego volevo finire perché quello che Tajani trova strano cioè che uno fa le indagini e poi durante i processi qualcuno viene assolto è tipico di tutte le democrazie è nelle dittature che quando il PM chiede la condanna il giudice indefettibilmente la concede perché? perché il pubblico ministero rappresenta il governo e nessun giudice darebbe mai torto al rappresentante del governo quindi noi quello che lei trova mostruoso in realtà è la fisiologia le indagini si fanno per scoprire chi ha commesso un reato e se tizio indiziato di un reato è colpevole o innocente nel processo si decide se c'è un innocente o se c'è un colpevole non si può saperlo prima che si faccia il processo quindi il fatto che i processi si possano concludere anche con delle assoluzioni è fisiologico se lei dimostrasse che i giudici danno sempre ragione ai pubblici ministeri perché sono colleghi allora uno potrebbe tenere in considerazione la separazione delle carriere ma l'ha detto lei che i giudici danno spesso torto ai PM anzi danno più torto ai PM che ragione ai PM quindi che motivo c'è di separarle è che voi volete mettere il pubblico ministero sotto il governo e allora cambia perché volete è certo perché tutti i paesi dove le carriere sono separate il pubblico ministero è un funzionario del governo non è vero non è vero noi vogliamo fare carriere separate non nominati dal governo se sono carriere separate uno è un magistrato inquirente e un altro magistrato giudicante questo è chiaro lei esclude che il governo voglia mai mettere il pubblico ministero sotto il suo controllo ma per carità ma per carità va bene andiamo avanti ma come per carità è un progetto di Forza Italia dal 94 l'ha detto Berlusconi 80.000 volte che bisognava mettere il pubblico ministero sotto l'esecutivo cioè come per carità questa riforma questa riforma che arriverà in consiglio dei ministri non è una riforma che punta a mettere i pubblici ministeri alle dispendenze del governo perché se hanno una carriera loro come fanno a essere sotto il governo cioè fanno un concorso vincono un concorso fanno una carriera da magistrato inquirente dall'altra parte c'è chi fa la carriera da magistrato giudicante quindi non c'è nessun il governo non è che decide chi fa non è come negli Stati Uniti che si decide chi fa l'accusa no non facciamo il paragone comunque in Italia sono due carriere separati sono funzionari pubblici che vincono un concorso funzionari pubblici che vincono un concorso va bene va bene e poi fanno la loro attività da magistrato inquirente adesso vi voglio chiedere una cosa dal ministro degli esteri perché dieci giorni fa l'ONU a me piace confrontarmi con un travaglio ma infatti siete entrambi molto abili dieci giorni fa l'ONU l'Italia si è astenuta nel voto per il riconoscimento dello Stato della Palestina paesi come Francia Spagna Polonia molti altri hanno votato a favore l'Italia perché si è astenuta per non fare uno sgarbo agli Stati Uniti non fare uno sgarbo a Israele o perché allora l'Italia ha la guida del G7 la maggioranza dei paesi del G7 si sono astenuti quindi non sono paesi il Canada mi pare è un paese governato dai liberali la Germania è un paese governato da socialisti quindi perché la maggioranza dei paesi del G7 si è astenuta ok va bene questa è una posizione di equilibrio ma noi siamo a favore dello Stato Israele dello Stato palestinese questo fine settimana arriverà in Italia il primo ministro il ministro degli esseri palestinesi noi le sosteniamo sono addirittura convinto sostenitore il governo è convinto sostenitore di dar vita anche ad una missione come chiede la Lega Araba dell'ONU per cominciare a preparare finita la guerra il territorio palestinese perché possa diventare uno Stato con una missione dell'ONU tipo Unifil e l'Italia è pronta a inviare uomini con guida di un paese arabo gliel'ha detto a Salvini di questo che non è in genere molto contento quando si inviano uomini sotto la Nato io ho detto non andiamo mai a fare la guerra in Ucraina ma come siamo in Libano portatori di pace così possiamo essere portatori di pace in Palestina va bene chiaro ministro Tajani da ex giornalista le devo chiedere è sempre giornalista è vero è sempre scritto all'ordine ma comunque diciamo che da molti anni non esercita il mestiere del giornalista anche lei è allergico come Giorgia Meloni alla stampa critica? non mi pare che non ho mai protestato se no se sono venuto qua mi pare che Travaglio è uno super critico ci diamo di tutto e lei non lo so come bisogna fare insomma voi non è che siete a critiche sto qua quindi non è che ho problemi e perché Giorgia Meloni è così dovete chiedere a Giorgia Meloni io sono io ma lei la conosce tra l'altro come adesso ci governa insieme da 19 mesi e siccome Berlusconi alla fine del del 2022 disse che era arrogante supponente lei come la descriverebbe invece adesso che l'ha conosciuta come è considero una persona leale se dice sì e sì si dice no e no non sempre abbiamo le stesse idee perché siamo di partiti diversi abbiamo punti di riferimento diversi governiamo assieme perché gli elettori ci hanno votato insieme ripeto l'ho detto anche in occasione del quindi sono una persona leale lei deve descrivere la Meloni a un collega straniero una persona leale non di destra destra non di centro di guardo le persone sono leali o non sono leali ho capito è il leader del partito dei conservatori ho detto io farei un'alleanza popolare conservatore liberale ho capito con dentro un po' di tutto di più però adesso le do 30 secondi ministro Tajani per lei deve convincere in 30 secondi un elettore o un'elettrice che non vuole andare a votare ad andarci invece l'8-9 giugno prossimi ci sono tanti motivi per cui bisogna andare a votare primo perché chi non vota non può poi lamentarsi chi vota sceglie il proprio rappresentante o la propria rappresentante al Parlamento europeo quindi svolge un ruolo attivo quindi affida a qualcuno il proprio voto il proprio potere democratico quindi già questo è un fatto importante per cambiare l'Europa bisogna essere presenti e bisogna partecipare io credo in un'Europa più democratica finito? finito credo in un'Europa più democratica e posso dire però perché votare Forza Italia perché votare Forza Italia è il modo migliore per far contare di più l'Italia in Europa perché il partito popolare europeo di cui noi siamo la parte italiana sarà la forza politica che darà le carte nella prossima legislatura chiarissimo un po' più dei 30 secondi ma adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché intanto in Italia le disuguaglianze sono in aumento molti paesi hanno divari interni con forti disuguaglianze economiche e sociali tra le diverse aree ma solo in Italia questi divari di sviluppo anziché diminuire col tempo si sono aggravati una ricerca di Demopolis per la fondazione con il sud presentata oggi conferma che le medie nazionali ormai hanno poco senso di fronte alla richiesta di dare un voto ai servizi pubblici nella regione in cui vivono il 70% di chi abita al nord li promuove mentre il 61% di chi vive al sud li boccia ci sono differenze abissali soprattutto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria su un solo dato esiste davvero un'unica Italia ed è la percezione che il PNRR si stia trasformando in una grande occasione perduta lo pensa il 67% dei cittadini intervistati da Demopolis questa volta con poche differenze tra nord e sud le divergenze tornano quando si tratta di esprimere un'opinione sull'autonomia differenziata i due terzi degli intervistati a nord prevedono un impatto positivo della riforma ma è solo il 38% ad ipotizzarlo per il centro Italia ed appena l'11% per il mezzogiorno d'altra parte è di poche settimane fa il rapporto Gimbe che dati alla mano spiega al Parlamento perché l'autonomia differenziata darà il colpo di grazia al Servizio Sanitario Nazionale causando un disastro sociale senza precedenti siamo in chiusura grazie Marco Travaglio grazie Monica Guerzoni grazie Ministro Tajani in bocca al lupo buon lavoro grazie spettatrici e spettatori Linea Floris al suo di martedì quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti